Quanto è importante la terapia? Moltissimo, nel senso che sta aiutando veramente a operare su tante patologie di ogni tipo, patologie mentali, patologie di origine psichiatrica e sta dando dei ottimi contributi anche nel lavoro sulla demenza con gli anziani e nell'Alzheimer. E terapie non solo con cani, ma anche con filo e sangue? Esattamente, anche con altri animali, tipo anche l'asino, il cavallo e anche i felini. Inizia ad esserci dei bellissimi progetti anche con l'inserimento dei felini nei reparti di psichiatria, per esempio. E anche i bambini rispondono bene? Assolutamente sì, soprattutto bambini malati e bambini con patologia mentale.